Non ti sembra che perdere peso continui a diventare più difficile ogni giorno che passa? Fortunatamente c'è una bevanda che può rendere questa lotta molto più facile, sciogliendo il grasso corporeo impedendogli di tornare indietro. Curioso? Allora ascolta e prendi appunti, ma prima di iniziare a fare questa bevanda, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche in modo da non perdere nessuno dei nostri nuovi video. Tutto ciò che serve per questo cocktail miracoloso può essere comodamente trovato in quasi tutte le cucine. Basta prendere 3 limoni, 2 manciate di prezzemolo, del bicarbonato e circa 8 tazze d'acqua. Inizia strofinando i limoni con un pizzico di bicarbonato di sodio e sciacquali prima per rimuovere eventuali batteri o pesticidi. Aggiungi un po' di bicarbonato di sodio alle 8 tazze di acqua calda e metti i limoni che ora sono ben puliti. Lascia agire per circa un'ora in modo che possano ammollarsi nel bicarbonato di sodio. Una volta fatto ciò, lava il prezzemolo, tagliano insieme ai limoni e gettali nell'acqua. Non rimuovere la buccia dai limoni, contiene nutrienti importanti. Fai bollire l'acqua e lasciala a fuoco basso per circa 3 ore. Quindi spegni il fuoco e lascialo raffreddare. Se hai fatto tutto bene, metà dell'acqua dovrebbe evaporare. Filtra la tua miscela, mettila in una bottiglia di vetro o in un barattolo e tienila in frigorifero durante la notte. Bevi 55 ml prima cosa al mattino, aspetta circa 30 minuti e poi goditi la colazione. Il miracolo che produce questa bevanda è l'abbassamento del colesterolo che, naturalmente, ti aiuta a perdere tonnellate di peso in pochissimo tempo. Gli stessi ingredienti hanno tutti la propria superpotenza per la salute. I limoni puliscono il fegato e danno energia al corpo in modo da poter rimanere attivi per tutto il giorno. Il bicarbonato di sodio è insostituibile per bruciare grassi perché aumenta la produzione di chetoni nel sangue. L'acqua è la chiave di volta per tutto. Una figura snella, una pelle e capelli belli e un sistema funzionante. Il prezzemolo, a sua volta, contiene un numero impressionante di antiossidanti e può persino combattere il cancro. Immagina cosa può fare la combinazione di tutti questi potenti ingredienti. Il peso in più scapperà via per la paura. Non farti prendere troppo dall'emozione, però hai ancora bisogno di consultare il tuo medico prima di aggiungere questa bevanda alla tua routine quotidiana perché contiene un sacco di vitamina K. Le vitamine sembrano tutte buone, ma tutto con moderazione. La vitamina K in particolare può influire sulla coagulazione del sangue, quindi è assolutamente necessario consultare il medico prima di fare qualsiasi cosa. Solo lui, o lei, saprà con certezza se questa bevanda è consigliabile. Se non lo è, non ti preoccupare, abbiamo un cocktail di potenziamento per la salute e per lo scioglimento del grasso della pancia. Adolciamo un po' le cose e prepariamo questo drink disintossicante al miele e al limone. Anche gli ingredienti non sono difficili da trovare. Avrai bisogno di un cucchiaio di miele biologico, metà di un limone ed una tazza d'acqua. Inizia facendo bollire una tazza d'acqua e lascia che si raffreddi per un po' fino a quando non diventa tiepida. Mescola un cucchiaio di miele fino a quando si scioglie e poi fai lo stesso con il succo di metà limone. Ecco fatto, è pronto! Proprio come con l'ultima ricetta è meglio berla a stomaco vuoto, 30 minuti prima di colazione. Ricorda che devi berlo subito dopo averlo fatto, perché se il miele si riscalda può diventare tossico, quindi aspettare non è un'opzione possibile. Perché questa combo funziona così bene? Il miele e il succo di limone migliorano significativamente la digestione, mentre allo stesso tempo disintossicano il corpo. Ma soprattutto questa bevanda scioglie il grasso corporeo e aumenta il metabolismo. Questo non è neanche l'intero elenco dei suoi benefici. Dopo aver bevuto regolarmente questo intruglio, preparati per capelli e unghie perfetti e veramente forti. Direi che ne vale la pena! Anche la prossima ricetta è di grande successo. Prepareremo un delizioso e sanissimo cocktail di mango e zenzero. Il nome dice tutto. Avrai bisogno di una radice di zenzero da 2,5 cm e una tazza di mango congelato. Tieni presente che questa ricetta è per una brocca delle dimensioni 3 litri, quindi se hai un contenitore più piccolo dividi la ricetta a metà. Se vuoi solo fare una tazza, allora avrai solo bisogno di una fetta di zenzero e un ottavo di tazza di mango. Per quanto riguarda la ricetta con la brocca da 3 litri, inizia sbucciando lo zenzero e tagliandolo in 3 o 4 fette delle dimensioni di una moneta, quindi mettilo nella brocca e aggiungi il mango. Coprilo con 3 tazze di ghiaccio, riempi la brocca con acqua e mettila in frigorifero per circa 3 ore. Non saltare la parte col ghiaccio, trattiene lo zenzero e il mango per aiutare a mischiarsi nell'acqua. Questo cocktail è una delle bevande disintossicanti più popolari che esiste. Questo non sorprende perché è un vero miracolo per aumentare il metabolismo ed aiutarti a perdere peso. Migliora anche la tua memoria e può persino aumentare la tua libido. Oh là là! Prendi un bicchiere tutti i giorni e vedrai la differenza in pochissimo tempo. Inoltre ha un sapore davvero buono quindi non dovrai sforzarti di berlo, in effetti non vedrai l'ora di bere il tuo prossimo bicchiere. Ora basta con le ricette pre colazione, aggiungiamo anche una per la notte. Non ci sono molte bevande che possono aiutarti a perdere peso mentre dormi quindi questo raro infuso al cetriolo è molto apprezzato. Per farlo avrai bisogno di un cetriolo lungo, 6 tazze di acqua, un terzo di tazza di foglie di menta, un cucchiaio di zenzero grattugiato e un limone. La ricetta in sé è super semplice, affetta il cetriolo e il limone e aggiungili all'acqua insieme a tutti gli altri ingredienti. È meglio mettere fin dall'inizio tutto in una bottiglia alta quindi sarà più facile da bere dopo. Non dimenticare di metterlo in frigorifero per una notte in modo che tutto si mescoli insieme. Assicurati di berlo proprio prima di andare a letto ma tieni presente che dovrebbe essere freddo. La cosa fantastica di questa bevanda è che scioglie il grasso mentre dormi. Sì, davvero così semplice. Inoltre ti pulirà la pelle e aumenterà le tue energie per il giorno successivo. Puoi anche portarlo a lavorare con te e berlo per tutta la giornata come un bel tonico rinvigorente. Dopo solo un paio di giorni vedrai già i primi risultati, una pancia molto più piatta che continua a ridursi col tempo. Ultima ma certamente non meno importante abbiamo ancora una bevanda per la notte che è semplice ma efficace per la perdita di peso. Questa volta avrai bisogno di un cucchiaio di miele e un cucchiaino di cannella in polvere. Mescola gli ingredienti in una tazza di acqua calda e bevilo prima di andare a letto. Sì, è così. Fatto, finito. Non si può sbagliare con questa ricetta poiché tutti i suoi componenti sono noti non solo per snellire il corpo ma anche per migliorare la salute. Il miele, come abbiamo detto prima, accelera il tasso metabolico e l'acqua scarica le tossine dal tuo corpo. La cannella, a sua volta, aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Questo è abbastanza importante poiché l'elevata glicemia può portare ad un maggiore accumulo di grasso. Metti insieme i tre e avrai una combo killer che ti aiuterà ad avere il tuo corpo dei sogni più velocemente di quanto pensi. Quindi, avanti tutta! Quale metodo è stato il più efficace nella tua personale battaglia contro il gonfiore? Diccelo nei commenti qui sotto. Non dimenticare di fare clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo. immaginale. Attraver il tuo corpo. Alla prossima! Grazie a tutti.